questo alle mie spalle sembra essere l'albero più vecchio del mondo nelle varie guide e menzionato come tale sembra non esserlo comunque un albero che ha circa 2.500 anni e quindi sicuramente sarebbe molto bello potersi avvicinare ma sembra che non sia possibile purtroppo quindi dovremo accontentarci di vederlo da lontano al prossimo video grazie